Il dramma della disoccupazione si supera solo tornando ad assumere, ripartendo dalla pubblica amministrazione. La ricetta della Will FPL è semplice ma efficace. I comuni e gli enti pubblici presentano ovunque organici non sufficienti per rendere la macchina amministrativa in grado di dare risposte concrete. A risentirne sono i servizi ai cittadini e di tutti coloro che sono in attesa da anni di concorsi pubblici. Da tempo le contrattazioni sono ferme, evidenzia il segretario generale della Will FPL Paolo Pandolfi e gli enti non ci convocano più, le risorse sono poche e quelle che ci sono vengono spese male. Si preferisce dare incariche a professionisti piuttosto che assumere personale a tempo indeterminato con costi praticamente simili. Ci sono stati numerosi pensionamenti ma coloro che hanno raggiunto l'età del meritato riposo non sono mai stati rimpiazzati. Il dipendente pubblico fino a qualche anno fa era rispettato, oggi completamente snaturato e spesso svuotato di mansioni. La disoccupazione Chiosa Pandolfi deve essere combattuta in primis dallo Stato favorendo le assunzioni nei propri enti, dai comuni alle regioni, dalle province alla sanità fino alla scuola. A preoccupare la Will FPL e poi il rapporto dinamiche del mercato del lavoro nelle province italiane realizzato dall'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che evidenzia una situazione difficile. Il tasso di disoccupazione nel 2016 è stato pari al 16,8% con dati praticamente raddoppiati se si prendono in considerazione due indici. Quello dell'inattività che riguarda il 40,6% di persone comprese tra 15 e 64 anni e quello della precarietà con il 33,7% che lavora con contratti part-time a termine o di semplice collaborazione.